Mi è sembrato di rivedere papà. Forse sto impazzendo. Lara, tuo padre non c'è più. Un giorno tutti dobbiamo capire chi siamo. E qual è il nostro destino. So dove è andato mio padre. È nel mezzo del mare del diavolo. Sarà un'avventura. La morte non è un'avventura. Che cosa ci fai qui, Lara? Sono sette anni che sono su quest'isola. Tuo padre mi ha messo qui. Ora vedo la somiglianza, l'intelligenza, la temerarietà. Che cosa sa di mio padre? Lara, la mia vita non era solo riunioni e accordi commerciali. C'è un'organizzazione, la Trinità, che vuole iniziare un genocidio globale. Sapeva scegliersi le vacanze. Aveva fiuto per l'imprevisto. Devi fermarli. Promettimelo. Vai! Ma dai! Prima le signore. Aprite la tuba! Sei tu che premi il grilletto. Hai provocato la famiglia sbagliata. non è evitato. Grazie a tutti. Grazie a tutti